. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 12 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo sagittario. Malus e Bonus alla Pari. I Malus quest'oggi ve li regalano Saturno e Nettuno in quadratura e l'alloro di Rimpetaia, la Luna, che dal punto più alto del vostro cielo, la Vergine, già sollecitata da Marte e Orano imperiosi, pone l'accento sul lavoro, argomento clou della giornata. Relativo anche il guadagno, ma come cantava Mina l'importante è finire. Obiettivo concludere tutte le vostre incombenze entro domani e partire per le ferie dopo aver lasciato il testimone ai colleghi o almeno per un weekend rilassante e a quanto promette Venere che in serata passa nel segno focoso del leone, anche intrigante sotto il profilo sentimentale. Se l'amore non ci arriverà, se è presente si rafforza, riguadagnando quell'entusiasmo e quell'ottimismo che le beghe della quotidianità tendono a spegnere anche in compagnoni fiduciosi del vostro calibro. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, tra bocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. Non insistete. Non è tempo di riconquistare la fiducia del partner. Dovete aspettare tempi migliori e assaporate l'ebbrezza della libertà. Non è il momento di impegnarsi. Tutelati contro possibili furti, perdite di oggetti o di denaro. Sistema la casa, prepara dei buoni pranzetti o dedicati a relax. Conteranno le cose di valore. Per i sentimenti. Meglio oggi non considerarli troppo. Vorreste estraniarvi dalla routine quotidiana. Il partner forse vi sta più stretto. Senza prove in mano non potete muovere accuse verso il partner. Cercate di contare fino a dici prima di puntare il dito. Portate pazienza oggi in ogni cosa, c'è qualcuno che sembra faccia di tutto per farvela perdere. Poi sorridete a tutti, oggi non è il caso di tenere il broncio a nessuno. Se intendete disfarvi di qualcosa potreste o venderlo o regalarlo, ma tenerlo lì abbandonato non giova a nessuno. La malinconia farà capolino in questo giorno, fate attenzione a non ripensare al vostro passato e a rimurginare. Il passato è passato e tale resta, guardate avanti. Urrà! Finalmente Venere cambia segno e si dispone in angolo magnifico per voi da leone. Alle ore 17 e 20 il pianeta della salute, della bellezza, della pace, del benessere in generale, naturalmente dell'affettività comincia a mostrarvi i suoi buoni influssi. Lavorerà incessantemente per voi fino al giorno 5 agosto prossimo restando appunto nel segno vostro fedele alleato del leone. In generale i pianeti continuano a sorridervi, con l'eccezione di qualcuno, che vi tiene, ancora per poco, il broncio, per esempio Saturno e Nettuno forze legate all'intelletto, alla prontezza nel vedere l'imprevisto, alla capacità di avere una visione d'insieme. Giornata Sniff sotto il tiro incrociato della luna malmostosa invergine allo zenite e del suo dirimpettaio Saturno, causa di malumori familiari e malessere interiori. Molto impegnativo il lavoro con Marte e Urano urticanti in sesta casa che a sera vi vedono nervosi e tesi. Ma una volta nella tranquillità di casa vostra recuperate non solo tono, anche entusiasmo. Il merito dovrete riconoscerlo a venere che nel tardo pomeriggio lascia il sole cancerino per entrare nel segno amico del leone, generoso, idealista e focoso quanto il vostro. Amore ed Eros. In alto i cuori, sul fronte sentimentale le vacanze saranno bellissime, incontrerete persone interessanti e di una di esse magari vi innamorerete ricambiati. Malumori per chi un compagno ce l'ha già, ma non è con lui o lei che si scontra, piuttosto con la sua famiglia. Anche la vostra d'origine però implica problemini, l'amore è una bella cosa, ma per sentirsi completamente felici occorre anche tranquillità. Tensione per il quattro zampe che non può venire in vacanza con voi, l'ha già capito e vi guarda dall'alto in basso con sdegno evidente. Ispirate serena sicurezza e un tale senso di appartenenza nel vostro partner che siete molto apprezzati e amati. Siete percepiti infatti come autorevoli e protettivi, dando un contenuto di particolare spessore al vostro rapporto. Venere, nel segno amico caloroso del leone, vi trasforma in una sorta di guida del legame sentimentale, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Lavoro e denaro Problemini e problemoni su lavoro, sostituire colleghi che se ne sono andati in ferie senza neppure passarvi il testimone non è facile come sembra. Il capo vi guarda con occhio critico mentre voi, imbranati e imbarazzati, non sapete come uscirne. Sereni sul fronte finanziario, il gruzzoletto tiene, a meno che per consolarvi con una vacanza stratosferica non siate voi stessi a salassarlo. Ma dal momento che per voi il viaggio è vita nessuno troverà da ridire. Venere vi aiuta a raffinare il linguaggio della gentilezza e dell'affabilità, specie se siete nati dal giorno 23 al 27 del mese di novembre. Stima e rispetto. Sono queste le parole chiave che vi permettono di aprire tante porte nel vostro ufficio o nel vostro gruppo di lavoro. Benessere. Chiamatelo pure malessere tra tensione, emicrania, sbalzi pressori dovuti alle alte temperature. Aggiungeteci anche affaticamento, mal di pancia, malumore e avrete un quadro completo e piuttosto oscuro dell'attuale situazione. Colpo di scena verso sera quando le nuvole temporalesche si diradono cedendo spazio al sereno, con la prospettiva di una bella vacanza inizia per voi la cura miracolosa anche senza pillole o pomate, basta la parola. Denaro. Non vi potete lamentare delle vostre finanze, che, seppure non tanto cospicue, riescono ad ogni modo a farvi star dentro a ogni vostra spesa. Per lei, lo stilo esotico o folk è quello che vi sta meglio, sia nell'abbigliamento che negli accessori, sottolinea la vostra personalità irrequieta e allegra, non traditela mai. Per lui, arte e letteratura i vostri grandi amori, nel bagaglio eliminate i capi inutili pur di far spazio a un paio di libri e alla vostra insostituibile macchina fotografica. Primo apprendere, poi abbigliarsi. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.